Ciao, benvenuto a questo nuovo video dove andremo a parlare di una cosa che so che non ti interessa. I soldi! Ok, sicuramente è un argomento molto interessante. So che non è l'unica leva, ma è anche una delle più importanti per la scelta di un lavoro. E molte persone che si approcciano al settore immobiliare mi chiedono ma quanto verrò pagato, quanto guadagno e quanto potrò guadagnare? Ah, prima di proseguire ti ricordo, se ti interessa rimanere aggiornato sui miei video, di iscriverti al mio canale YouTube, chiusa parentesi. Allora, è molto importante considerare anche questo aspetto. Non si vive di aria, ovviamente. Oltretutto il denaro, in pochi lo sanno, è anche un motivatore psicologico. E non intendo perché uno può spenderli, ma in realtà il denaro misura il valore che noi scambiamo col mercato. Le persone ci pagano perché diamo a loro un valore aggiunto. Quindi il denaro, al di là del fatto che ci piace guadagnare, ci dà anche un'idea di quello che noi spostiamo fuori come valore della nostra utilità come professionisti. Quindi è sempre opportuno guadagnare tanti soldi. Poi uno può farne quello che vuole, beneficenza, può invece comprarsi una casa nuova. Quello che vuole non è un problema. Tuttavia l'importante è portare a casa un fatturato e un guadagno netto molto interessante. Ora veniamo a noi. Se stai approcciando il mercato immobiliare come possibilità di carriera e di crescita, è importante sapere che probabilmente non farai la prima vendita dopo 15 giorni. Oddio, a qualcuno è capitato, ma è l'eccezione ovviamente alla regola. E è dovuto anche a un fatto di congiungimento astrale molto particolare. Quindi un colpo di C. In realtà la prima vendita non avviene subito. Quindi è importante considerare diversi fattori. Il primo che ti consiglio è quello di valutare la tua possibilità di vivere per alcuni mesi con dei soldi che hai da parte. Al di là che tu possa avere a meno un supporto economico da parte dell'azienda dove entri. Tradotto, non devi essere sotto stress economico. Iniziare un lavoro soprattutto di vendita e di consulenza dove hai bisogno di guadagnare è un problema grosso. Perché prima di tutto rischi di non essere lucido con le persone e di poterle aiutare realmente. In secondo luogo c'è un altro problema. Le persone sentono il tuo bisogno di vendere e di conseguenza ti sfrutteranno, in senso buono, e non ti seguiranno. Che invece è quello di cui le persone hanno bisogno. Hanno bisogno di un professionista da seguire. Ma se non si fidano di te perché sentono puzza di bisogno, non ti seguiranno. Perdono loro, perdi te. Fatta questa premessa che è fondamentale per affrontare un lavoro come il nostro, è importante che tu ti affidi ad un'azienda che possa investire su di te. Mentre sei in formazione sicuramente avrai bisogno di un supporto economico. Ed è per questo che valuti aziende dove all'inizio, oltre alla formazione, all'affiancamento sul campo, a tutta una serie di procedure, a una struttura che ti può supportare, è fondamentale che tu abbia anche un sostegno economico. Io lo chiamo un contributo all'avviamento. Sarebbe corretto che fosse ad obiettivi. Anche tu devi dimostrare l'azienda. Tuttavia, nel frattempo che ti formi e inizi a vendere, hai una certa tranquillità. Quindi all'inizio, quando hai una tua tranquillità economica, nel mentre che ti stai formando e arrivi alle prime vendite, questo è un bel lavoro, direi io. Cioè nel senso che sei tranquillo e al tempo stesso ti formi. Poi, quanto puoi arrivare a guadagnare? Beh, in realtà non c'è un limite vero e proprio. Conosco agenti immobiliari che guadagnano 300-400 mila euro all'anno e anche più. Ovviamente sono i compioni, sono l'eccezionale regola. Tuttavia, è abbastanza comune, quando fai l'agente immobiliare, anche da pochi anni, guadagnare 60-70-80 mila euro all'anno. E non è un brutto guadagnare. Conosco persone che hanno 25-26-27 anni che li guadagnano e i loro genitori non arrivano a portare a casa nemmeno un terzo di quelli che guadagnano loro. Com'è possibile questo? È possibile quando sei all'interno di una struttura che oltre a darti un corretto piano remunerativo a livello magari provvigionale e ti dà quindi la possibilità di scegliere tra prendere poco con un fisso permanente e una piccola provvigione o se sei bravo guadagnare tanto con una grande provvigione, ti dà anche l'opportunità di coniugare un'alta provvigione con l'opportunità di fare più vendite grazie al supporto dell'azienda stessa. Io dico sempre che le percentuali non vogliono dire nulla. Posso dare a una persona il 100%, metterla in mezzo al deserto del Sahara, il 100% di zero è zero. Posso dare a una persona il 40% e metterla in condizione di vendere tre case al mese, questa persona porta a casa 150 mila euro all'anno. Questi sono i numeri reali, quindi è importante che quando tu scegli hai la possibilità di avere un supporto iniziale che ti dia la tranquillità anche quando non sei ancora competente e anche quando non stai ancora vendendo, ma anche avere l'opportunità quando sei diventato competente di poterti sganciare da un fisso basso, da una provvigione bassa per poter avere delle provvigioni molto alte e quindi meritocraticamente portare a casa più soldini. Questo è fondamentale. Una volta che hai verificato queste condizioni non hai limite di guadagno, anche perché puoi scegliere di diventare un responsabile. Quindi essere remunerato anche perché formi altre persone oltre alla tua produzione di base, fino a diventare poi un imprenditore. Se hai piacere di avere ulteriori informazioni, sapere nello specifico come funziona la mia azienda, contattami, sicuramente ci confronteremo tranquillamente senza alcun problema, senza alcun segreto particolare e come ti dicevo prima, se hai piacere di essere aggiornato sui prossimi contenuti, iscriviti al mio canale YouTube. Al tuo successo e alla tua carriera!